bella sì benvenuti in un nuovo video guarda dove ho portato oggi allora io ho portato qua dentro perché ti devo dare delle grandi grandi aggiornamenti grandi piccoli aggiornamenti degli aggiornamenti sui nostri mezzi ma colgo l'occasione visto che siamo arrivati ormai all'ultimo giorno per farti l'augurito e buon natale buon natale buone feste non so non so questi giorni se riuscirò a far video probabilmente nome prenderò qualche giorno di riposo anche io però segui video perché ci saranno delle novità per l'anno nuovo faremo delle piccole sfide che una probabilmente comincerà il 27 dicembre però ovviamente tu non la vedrai subito perciò la vedrei dopo probabilmente tu la vedrai con l'anno nuovo perciò iscriviti attiva la campanella così ci avrai la notifica di quando uscirà il video e vedrai questa sfida che farò in quattro giorni se ci riuscimo sì se non moremo prima allora torniamo all'aggiornamenti walk in progress per il better generale allora due su due è roba solo da campioni e non tutti ci possono riuscire io ci sono riuscito perché dei numeri 1 ce ne stanno pochi se no erano due per tre numeri 1 c'è sa due ce ne sa di numero uno due su due e non me sto capito da solo insomma vabbè per far tan breve sono riuscito a scocciare due motori due motori nello stesso momento dei stessi mezzi adesso la prenderete ma un pochettino il culo di cerote praticamente il motore del generale bedford arancio e il camper sono tutti e due andati ti metto la foto del generale che sta comunque in smontaggio eccola qua qui sopra gli avevamo fatto diverse prove e niente c'era un cilindro che non andava andava a tre e mezzo non si capisce se era fuori fase e quello che si comunque hanno dovuto tirare giù il motore prima abbiamo aperto la testa poi abbiamo tirato giù il motore e l'hiamo portata rettifica rettifica ci fa sapere qualche cosa ovviamente con l'anno nuovo loro lo aprono ci faranno sapere il prezzo e quello che c'è da fare quello che si era rotto dopodiché rifaremo sicuramente un motore di sana pianta lo rifaremo tutto e poi dopo qui il dilemma il dilemma perché anche il motore del camper è partito poi ti spiegherò il perché allora il dilemma adesso è montiamo il motore nuovo di zecca lo rimontiamo sotto al furgone o lo mettiamo sotto al camper metti qui sotto un consiglio che faresti te al posto mio calcolando che col furgone un po' ci vado a divertire e un po' ci devo lavorare e il camper mi vado solo a divertire vabbè diciamo che ci fai intrattenimento su youtube perciò poi calcola una sorta di lavoro pure quello però ovviamente se limita alla comunque vabbè e allora adesso il dilemma è questo mettiamo il motore sotto al camper o sotto al furgone il motore nuovo poi per il l'altro motore diciamo l'altro motore che io avevo pensato di mettere motore nuovo inizialmente dico sotto al camper chiaramente ritornerai su un motore aspirato però un motore nuovo nuovo ovviamente se non devo fare un motore lo rifaccio nuovo e l'altro motore lo me lo metterò a cerca usato è vero che non è facile è vero che una ricerca sarà da fare qualche modifica devo capire che tipo di motore poterci mettere sotto perché trovare un motore open record lo capisci da te una macchina dei primi anni 80 anche 70 la prima serie non è facile soprattutto trovarlo buono dovrei trovare un motore opel omega però diciamo che negli anni 80 perché parliamo l'omega l'hanno fatta fino ai primi anni 90 se non erro e trovare una macchina diesel dell'anni 90 che all'epoca si pagava pure il super bollo sa faceva chi ci faceva i chilometri perciò trovarla senza chilometri non è facile trovare un motore dei 30 anni con pochi chilometri non è facile dovresti sapere da quale macchina lo togli chi ce l'ha avuta e bla 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 se no ricapitoliamo ricascamo nello stesso impiccio che già è successo perciò vorrei cercare un motore usato per spendere comunque meno perché calcoliamo che costo un motore nuovo penso che immagirerò fra i tre quattromila euro per fare un motore e fanno due raddoppi perciò non è fattibile devo trovare il sistema di un mezzo poterci mettere un motore magari non lo farò subito aspetterò però devo cercare con calma un motore da mettere sotto e devo valutare anzi se c'è qualcuno che mi sa da qualche consiglio per poter mettere un motore sotto al bed o qualcuno che ce l'ha da vendere o quello magari se mi contatta sarebbe una cosa da paura veramente perché onestamente non so dove poter andare a mettere mano anche perché qui sotto è complicato dove mettere perché lo spazio per installare un motore veramente veramente risicato perciò dopo vai a dove fa mille modifiche per poter mettere sotto un altro tipo di motore perciò devi andare un po' mirato su quello che riesci a fare allora il programma è questo vabbè intanto faremo un motore poi comunque che sia nel furgone o che sia nel camper decidiamo dove poterlo mettere l'altro motore il dilemma quello che dove fa nuovo lo scartiamo perché comunque sono troppi soldi onestamente proprio non ce l'ho da poter arrivare io penso che se riesco a trovare un motorino usato con forse mille euro ce la dovrei fa mille mille e cinque smonta rimonta e mettilo sotto a questo punto cercherò di trovarlo se riesco anche sempre turbo e poi se lo metto sotto al camper bene se va sotto al furgone è uguale non mi importa non mi importa core ma importa che il motore sia buono mi porta in giro e non mi dà problemi il motore del furgone si è rotto probabilmente poi ti farò sapere di preciso ma probabilmente si è rotta una fascia dovuta comunque all'usura al tempo ai chilometri e via dicendo il camper invece è stato sicuramente per sentito di da altri meccanici che hanno visionato il mezzo è stato fatto da la rottura perché il motore andava benissimo ma il meccanico che mi ha montato il motore sotto quando abbiamo fatto la sostituzione non si è accorto che mancava non si è accorto oppure la presa non lo so si è accorto che mancava il tubo mi pare l'opest gate vabbè praticamente il turbo che dà la pressione alla turbina perciò che succede la turbina lavora sempre al massimo dei giri manda sempre la pressione dentro al motore come se stassi sempre un fuori giri perciò tu ci cammini oggi ci cammini domani succede che dentro il motore è scoppiato tutto si è macinato tutto anche se io poi ci cammino sempre piano non l'ho mai tirato non ho mai strapassato e forse mi ha durato tanto proprio per questo motivo come gli ho dato un pochettino di più ha ceduto ha ceduto perché la turbina tu gli dovresti tirare una marcia quella ti dà la pressione e poi si ferma senza quel tubo la turbina non solo arriva più alta del normale ma ci sta sempre costante come come attacca cammini sempre costante su impressione perciò succede quello che è successo a me è scoppiato tutto ma quello che ha ceduto se l'arbero se i pistoni non lo so perché non l'avevo aperto adesso quando ci avrò l'opportunità di poterlo tirare fuori lo proviamo a aprire per capire quello che possa essere successo ma per curiosità perché sicuramente dove lo rifare non è che non vale la pena costerebbe troppo e non gliela famo non gliela famo perché dei soldi ce ne vanno troppi però poi curiosità per capire pure che ha ceduto l'arbero a cams l'arbero di trasmissioni i pistoni qualcosa che se possa essere rotto perché va in moto ma batte ma in moto e batte e vabbè perciò la conclusione poi la conclusione è questa perciò non te voglio annoia col video adesso ridò una riordinatina al camper in generale perché ho lasciato un bordello noi si vedremo sicuramente con l'anno nuovo probabilmente il video chiuderemo qui con quest'anno perché non so quello che faccio però il 27 già comincio a lavorare sul nuovo progetto perciò mi raccomando mi raccomando segui il canale e noi ci vediamo con l'anno nuovo qui sotto mi raccomando i commenti condividi il video così io divento più ricco come ha detto qualcuno e magari riesca a giustare pure il camper ma sarebbe male e qualsiasi consiglio di buon accetto bella si te saluta dar beddi è tutto bella si